Buongiorno, sono Martina e il mio lavoro si basa sulla determinazione della tracciabilità geografica di un noto prodotto della Valdichiana Senese, l'olio extravergine d'oliva. L'olio extravergine d'oliva prodotto nella Valdichiana Senese si caratterizza per due particolari qualità organolertiche, l'amaro e il pizzico, che sono dovute all'elevata presenza di polifenoli importanti e antiossidanti. La tracciabilità dell'olio extravergine d'oliva della Valdichiana Senese ha come scopo non solo di assicurare la qualità dell'alimento e la tutela del consumatore da eventuali prodi, ma anche di aiutare i produttori onesti a proteggere il loro prodotto. Nella tecnica per la determinazione della tracciabilità geografica viene effettuata un'analisi del contenuto minerale nel suolo, nelle olive e nell'olio. Questo studio si basa sul presupposto che il contenuto minerale della pianta corrisponda a quello contenuto nel suolo in cui è cresciuta e che venga poi trasferito nel prodotto finito, l'olio. Vediamo come. Gli elementi che si trovano nel terreno vengono assorbiti dalle radici trasportate lungo la pianta e accumulati nel tempo nelle foglie e nelle olive. Gli stessi elementi si ritroveranno di conseguenza nell'olio, anche se in concentrazioni minori a causa della lavorazione a cui sottoposto il prodotto. I campioni di suolo, olive e olio vengono portati in laboratorio e processati attraverso un mix di acidi, alte pressioni e temperature elevati. Il campione finale viene poi analizzato con lo spettrometro di massa. I risultati ottenuti attraverso le analisi di laboratorio dovranno essere studiati per verificare il trasferimento degli elementi minerali dal suolo alle olive. Dovrà quindi essere verificata la correlazione tra il contenuto degli elementi nel suolo e quelli nell'olio. Una volta ottenuti i risultati sarà possibile procedere con la verifica statistica rendendo così possibile la tracciabilità geografica dell'olio. Per concludere vorrei ringraziare la strada del vino nobile di Montepulciano che finanzia il progetto e le 19 aziende della Valdichiana Senese che partecipano. Grazie per l'attenzione.